anche se potrebbe sembrare questo non è l'ennesimo video diversamente utile di uno spacchettamento si tratta in realtà di un reportage del montaggio dello schermo da 100 pollici incluso nel kit laser tv isense 100 l5f che si compone oltre del proiettore ovviamente anche di uno schermo a cornice fissa con superficie alr ovvero ambient light rejection oltre alla guida cartacea su youtube c'è anche una video guida sul montaggio semplice chiara e molto efficace l'offerta di isense prevede comunque il montaggio dello schermo a casa del cliente compreso nel prezzo la struttura completamente in alluminio si monta con l'innesto di una coppia di staffe negli angoli non prima di aver inserito delle mollette in una guida che percorre tutto il perimetro lo schermo era stato già montato e smontato alcune volte eppure oltre che segnalare la delicatezza dei piccoli elementi angolari o meglio quello che ne rimaneva di uno dei quattro tutti gli altri elementi sono rivelati robusti e molto resistenti delle piccole aste inserite nelle asole lungo i lati dello schermo vengono poi agganciate con le mollette con un piccolo attrezzo fornito nella confezione l'inserimento dei quattro elementi della cornice viene seguito dal fissaggio dei quattro profili di plastica negli angoli che abbiamo citato prima è risultato impeccabile lo schermo ha ovviamente un verso e quello giusto ovviamente è l'opposto di quello in cui l'abbiamo tirato su lo schermo è molto leggero e può essere appeso al muro come un quadro su AV Magazine vi aspetta il test con misure di tutto il sistema Grazie a tutti